La storica sirena dell'arsenale militare marittimo di Taranto torna a suonare. Alle 8 di stamattina infatti la città ha potuto riascoltarla e il merito è in gran parte da attribuire alla ferrea volontà del contrammiraglio Luigi Schinelli, direttore dell'arsenale. La sirena aveva in passato il ruolo di dettare i ritmi alla Taranto del passato e ora potrà ritornare a farlo dato che si farà sentire dal lunedì al venerdì in due orari alle 8 e alle 16. È una sirena che scandiva i ritmi quotidiani. Il legame storico, intimo tra la città di Taranto e il suo arsenale, la marina militare, rimane nel cuore di tutti quanti gli abitanti di questi luoghi. Il rinnovato impegno che voglio mettere, di cui c'è anche bisogno nel affrontare le nuove sfide tecnologiche, sociali e umane sono anche determinate da questo simbolo che in qualche modo esce fuori dalle mura dell'arsenale e coinvolge tutti quanti i cittadini. Grazie per la città di Taranto, grazie ad Arsenale.